Si può, si può, signore, signori, scusatemi se da sol mi presento, io sono il prologo, poiché in scena ancora le antiche maschere mette l'autore e in parte vuoi riprendere le vecchie usanze e a voi di nuovo inviami, ma non per dirvi come prima le lagrime che noi versiamo sono false degli spasimi e dei nostri martiri, non allarmatevi No, no, l'autore ha cercato invece fingervi uno squarcio di vita Egli affermassi, ma sai che l'artista è l'or e che per gli uomini scrivere i deve Ed al vero ispiravasi Un nido di memorie in fondo all'anima Cantava un giorno e dei coi pelle lagrime strisse E i signiossi eterni vogli battevano Dunque vedrete amare siccome sono gli esseri umani E vedrete dell'olio i tristi friotti Del dolore gli spasimi Allora in radio vedrete e risarci E voi E voi Più tosto E le nostre povere Non fare Gli strioni Le nostre oive Non si date E voi In che sia uomini Di carne Nossa E Cerca di quest'arta rollo Ai mari di voi Spircano il mare Il concetto mi dissi Ora ascoltate come gli è svolto Andiamo Incominciate Sulla Un difusore Questo Grazie a tutti.